Il 19 marzo 1994 il parroco di Casal di Principe Don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra. A 18 anni di distanza il sacerdote assassinato da due killer mentre si preparava a celebrare la messa è ormai un simbolo della lotta contro la criminalità organizzata e le scuole della campagna oggi sono rimaste chiuse per ricordarlo e per non dimenticare tutte le vittime delle mafie. Il barbaro omicidio fu deciso dai casalesi dopo la diffusione da parte di Don Diana dello scritto per amore del mio popolo non tacerò, un vero e proprio manifesto per i preti antica morra diffuso a Natale del 1991 in tutte le chiese della zona per aprire ad un nuovo modo di vivere il Vangelo nei territori sotto il ricatto dei clan. E l'impegno quotidiano con il quale va celebrata la memoria di Don Diana è stato ribadito oggi anche dal sindaco De Magistris che ha ricordato per il 21 marzo la giornata nazionale della memoria e dell'impegno per tutte le vittime delle mafie. Particolarmente intensa quest'anno sarà la ricorrenza nel ventennale delle stragi mafiose che uccisero Falcone e Borsellino. Fitto il programma di iniziative promosse nelle scuole con proiezioni, spettacoli e drappi bianchi esposti alle finestre per testimoniare la volontà di ribellarsi ad ogni forma di violenza e di sopraffazione.